Tutto con lei Benvenuti a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Dexter Io sono Martina Ragazzi, siamo in una nuova serie Sì, tantissime nuove serie Siamo su Roblox, ragazzi Bellissimo Siamo su Roblox Vedete la Martina lì, la tartina passa alla moda Io sono questo qui E siamo su una modalità famosissima Che si chiama Broken Bones, ragazzi Broken Bones Si devi lanciare dalla montagna E spaccarci della ossa in modo da fare Dove io ti arrossetta Sta lagando come non so che Martina io Arrivo tu Oddio Aiuto Oddio Martina Mi sono spaccato tipo Lego Volevo stare in acqua È bellissimo sto gioco Tutto in acqua Oddio No ragazzi, non so se vi sto percorrgendo di quanto lagga Perché ci sono tantissimi giocatori Ma poi orsera quella Ma poi orsera quella Ma poi orsera quella E devi collezionare Unite e devi sviluppare Per sviluppare nuove mappe Esatto Io potrei già prendere la mappa numero 3 Quanti soldi hai tu? Io? Non lo so E là in basso a sinistra Martina Ah 12.138 Ma butto Ok E sono soffro divertigili ma Dettagli In teoria Martina tra poco potresti acquistare la nuova mappa Che si fa quando hai finito di buttarti Schiatti e change the map Ah no, la seconda mappa costa 100.000 E metto il scianto sui sassi Sì, i sassi fanno danno Allora Martina Adesso non mi vedi più perché io sono sulla mappa 2 Che è molto più alta Che mi fa Cioè poi per me Ovviamente lo porteremo solo questa modalità Ragazzi ma porteremo varie modalità Allora L'anga come un non so che Provo a spostarmi Vediamo se così prende di più Madonna l'anga Oddio No Martina Non hai idea Mi vedo solo le gambe praticamente Con uno spirulino E poi posso non vedere Non vedo niente la mia testa Non vedo niente Oddio Sì Quando volai in aria No sto volando come non so che Oddio Allora qua Adesso si c'è data Buona ragazze guardate che roba Oddio Eh madonna Mi inizio a vedere Alfina quando ti schianti con la testa sulla roccia È detto di mangiare una lappa È detto di mangiare una lappa È detto di mangiare una lappa Sì Quando ti schianti sulla roccia No Con la Sulla testa Inizio a vedere tutto sfocato Dammi un cinquantino Eh no probabilmente no Ma quanto devo fare sta roba? Sei già stufa? Sei già stufa Bellissimo Cioè ma devo buttare sulla montagna Cinquecentomila volte Sì ma devi Collezionare le monete Prontima volta Aspetta 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 Che sia chiaro Io non mi metto più per a stravola Sto pomeriggio Cioè Mi pare che metto l'ore Alla merda Sto gioco Che Mi devo fare una moneta Martina se ne posso parlare Non esiste solo sta modalità Ce ne sono un bot di modalità Puoi fare pet simulator C'è anche Granny Versione Roblox Cioè ce ne sono un sacco di tipi Puoi fare quello che vuoi Questa è la mia preferita Sì perché non è bene No Martina ascolta Se portiamo la serie Ci dovrei anche giocare Non è che puoi giocare sempre a Brustace Io sto portando anche questa tipologia Tipologia di giochi Per vedere se un gioco ti piace Così almeno Nel santo Dio Non stai sempre con un Brustace Perché alla fine è sempre la stessa roba Non lo portiamo più Quindi voglio dire Cioè Poi sto gioco è anche carino Vabbè Magari la modalità Non è tanto per te Vabbè Posso capire Però Ci sono varie modalità Di Bumpet Simulator Secondo me Visto che ti piacciono gli animali Secondo me come modalità per te è carina Il prossimo video Te l'ho già detto Lo facciamo su quello Vedi se ti piace Senzio Allora Ci schiantiamo sull'acqua Ragazzi In realtà Non dovrebbe cambiare niente Quando arriviamo a 100.000 Allora Possiamo Prendere la terza mappa Quanti soldi hai 31.000 Magari Beh dai Sì Non è malissimo Un altro Sì In top italiana C'è gente che ha 9 No Triglioni di triardi Tipo Eh Sì Sì Triglioni di triardi Triglioni di triardi Guarda Un numero Sai Infatti è legato il fisico Vado 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 Raga Che salto Madò Eh vabbè Sta volando il sangue in aria Ma cosa sta Questa 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 Io non Non puoi usare Le emotive Adesso 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 Io volevo Sipidare Se mai Stai 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 Ma che livello Sei Ma Due Sipidare Ti da poca esperienza Sipidare Dammi un 15000 Eh niente Devo fare ancora una jumpata Probabilmente Ragazzi questa è andata anche abbastanza Ma sei nella mappa 2 Martina 2 Sì Ok Schiantiamoci Schiantiamoci così raga Così Eh vabbè Perché la luna è così bassa ragazzi Che senso ha No Rana qua Mi schianto Eh ve lo dico Io ve lo dico qua Mi schianto Madonna 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 No Mi sono schiantato con la testa Eh mi devi dare un 10.000 Almeno Dai Mi sono fatto male qua Oddio Nio che tanto Non fate un cazzo Youtube 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 Bellio Youtube Leo Ah pensavo Youtube Bello Provo a usare le mods Dopo Ah Fly Ragazzi Fatemi sapere se questa modalità vi piace Ovviamente Ne porteremo molte altre Per ora Abbiamo portato questa Penso che Faremo Tanta video di Roblox Perché comunque È un gioco carino Ragazzi Puoi giocare pure In Più persone Quindi Ecco Entrate per il primo Gia Quanto ho fatto Non ci credo Ma non ci credo Allora In teoria Dal livello 2 Martina Tu Dovresti Anche tu Hai presente Hai presente che c'è in basso Un tasso arancione Con tipo un uomo che corre Sì sì Eh Se tu lo schianti Ti viene Adesso non lo Non hai ancora tutti Però ne hai intanto uno Si chiama Firework Se tu lo attivi Mentre stai saltando Mi raccomando Praticamente È bellissimo Perché inizia a volare via Come un non so che Attivo Oddio Martina Oddio Oddio Guardi che non mi hai visto No Usa il Firework Anche tu È troppo bello Mi chiede un bel È bellissimo Solti in aria Come un'altra cosa Poi immaginati Quando sei altissimo Vado Ho preso la testa E guai Mi sono fatto male Però 12 ossa Di là Ragazzi Dai Eh Però ho parcheggiato Ma Quanto ho fatto 9000 Va bene Dai Posso cambiare mappa Posso prendere la mappa Numero 3 Visto che abbiamo Altri 7000 da parte Ragazzi Andiamo anche nello shop E ci prendiamo Qualche potenziamento Perché Martina Se vai su Upgrade Ti viene Sì Diventi più forte Tipo i Bricks Livell 1 Ti danno dei soldi più Io farai Uno di questo E uno di questo E uno di questo Poi i soldi Per fortuna Si rifanno Anche abbastanza Velocemente Cioè ragazzi Se ti schianti bene Non come faccio io Ti te la cagli Anche abbastanza bene Quanti soldi hai Martina Io ho pochissimi Perché ho comprato 89000 Ok allora ti sei vicino Anche tu per la nuova Oh Martina Io sono altissimo Io sono altissimo Mamma mia Spero di mettere Una musica di sottofondo Per questo video Perché se no veramente Madonna Vedo tutto sfocato Ma ti metto una buonita No Che vuoi metto No 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 Non mettere Metto io la buonissima Non mettere tipo Mangorosso No 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 Canzone viva la vita Oddio Qua ti sono rotto abbastanza Quindi magari 10.000 Lo dovrei aver fatto Forse anche di più Vabbè ok Che mi sono anche lanciato da 8.000 solo Che peccato Ma sono scrauso Oddio però Comunque siamo ancora bassi Per fare abbastanza Ci sono tanti tizi Che sono arrivati Sul punto mio E ci sono tre mappe Martina Era l'altro Non so quale sia migliore Mi sta la gara Cioè a momenti mi cresce Secondo me A momenti mi cresce Tu e te Stasera tu ci sei Martina? Io sono 94.000 Ok bene Ti sei Martina tu stasera? Cosa? Ti sei tu stasera? Cosa Ok così facciamo il video La di Pet Simulator E allora Così ce l'abbiamo preso Ma no Stiamo facendo la live Martina mi sono schiantato Su un masso Tipo 50 ossa Mi sono rotto 50 ossa Come no Non ci penso No ti giuro Ma è effetto Vabbè non credercelo Ragazzi ho fatto 11.000 qua Mi sono schiantato ben bene Ma per quanto tempo dovresti fare l'online di posta? Ma delle Dei mondiali Ah Mi sono detto Mi sono detto Mi sono detto Dei mondiali Martina Allora anche no Eh Vabbè Madonna Martina Sono più aperte La gamba aperte Madonna Ma non possiamo Per l'azio Quei ragazzi sono più on fire Domani sono morti No Martina No Non ce voglio Mi toccheremo per video Se facciamo a lei 41 ossa Attenzione Perché domani non so Se ci sono C'è Sul tasto stop aiuto 13.000 Mi sono spaccato la testa 13.000 Martina Wow Che onore Allora Devo fare Stai 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 Fare così E colpire Stai Siete Difficile Perché Devi regolare bene Ecco 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 Pah 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 Poi il certo punto Rai a me Ti inizi a sentire Bip Inizia a sentire Questo viola Eh qua Mi sono schiantato Anche qua Eh la madonna Cento Quasi cento Cioè Normalmente Quelle critiche Sono 74 Invece le altre Sono 30 Osso Quindi Vado Martina Quanto Qua mi faccio Quasi 20.000 Secondo me Quasi 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 Qua sicuramente Sì A che livello sei Altre Ok Anch'io sono Altre Perché Basta scoparti Il masso Stato No Martina Stato Ercando Sul masso Il mio Mino 24.000 24.000 24.000 Oh So che può risultare Un po' Noioso Ragazzi Però State tranquilli Che Dopo Inizia a essere Divertentissimo Perché Tipo Inizia a avere Un sacco Qua ho fatto schifo Qua ho fatto molto schifo Ma Qua storia Stai inviare Solo latinare Stenditi Più o meno Martina Oh Martina Ci siamo passati davanti Siamo passati davanti Siete Mi hai visto No Stavo Ti ho visto io Per un millesimo Però Tra quanto mi si ricarica Il firework Tre minuti Eh Finiamo col firework E dopo Concludiamo il video 25 ossa Qua ho fatto abbastanza schifo Qui avrò fatto 8.000 Beh dai Si vede che comunque Al testo ti aiuta un sacco Anche se fai schifo Comunque Devo provare No no Martina Non mettere niente Io dopo Devo mettere la musina Di sottofondo Devo favore Sare alla fine No Dai No Il tono Dai Metto quella No Martina Se dopo io metto la musica Si sentono due musiche Per favore Non far venire il video Una merda Prego Te l'ascolti dopo Quanto vuoi Però nel video Per favore no Perché sennò Si sentono due musiche Un casino Oddio Qua quanti ossa Ma che poco Però che ho fatto Hai provato Hai provato a mettere La prima persona Martina Hai provato a mettere La prima persona No Devi schiacciare Il tasto Quello là Che sembra un occhio Io non so Io non so Perché il romino Muove il pene Oh sto raguzzo Molando Abbastanza moneta Io ti aspetto Martina Qui È un po' Difficile Sì Sì ma ho detto Quando uso Il fare work Mancano due minuti Io mi butto Dai Allora Se mi riesco a buttare Di testa su qui Ma Sì Eccolo lì Fermo 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 Perfetto Madò Cadi 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 Oddio Oh mamma mia Mi spacco tutto Che bellezza Sì bellezza per niente Oh Martina Mi devo Chiedi di schiantare Con la testa Martina Se vuoi fare più moneta Consiglio Perché la testa Ti va molto di Ok Oddio Slalom E la pezina 51 ossa E beh qua Qua ho fatto un 15.000 Poi secondo me Forse anche un po' di più 20.000 Mamma mia Sono già 100.000 praticamente Devo comprare I potenti Perché sono ancora Abbastanza Basso Io sono a livello 4 Tu sei a livello 3 Ancora Martina Sei ancora a livello 3 O sei a livello 4 Anche tu 3 2 o 3 Martina Non stai più giocando Vero Sì 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 Martina Non mi prendere in giro Lo so che Non stai più giocando Ti vedo quando mi gioco Lo so Non ti piace Sto modalità Ma almeno nel video Santo Dio Io non lo so Ragazzi Io non lo so Poi quando mi lamento No È colpa mia Ma proprio quando mi lamento Stiamo facendo il video Su un gioco E lei non gioca Allora cosa stai facendo Cosa stai qua fare Non lo so Martina Porta paziente Ma ho cascato L'ho detto Quando facciamo il firework E comunque Ecco adesso Concludiamo il video Potevi portare paziente Un altro secondo Che adesso Concludevo Invece no Madonna Mi sono schiamato Mi sono schiamato Mi sono schiamato Va Eh no Qua ha fatto schifo Eh non lo so usare Il firework Ragazzi Ci dobbiamo esercitare Un pochino Ok Va bene ragazzi Io direi Che si può anche Concludere quel video Ragazzi Noi registriamo Dopo cena E noi Sarebbero dopo cena Voi Probabilmente Anche voi Dopo cena Se lo vedete Su questo video E Registriamo Il video di Pet Simulator Vediamo un po' com'è E Concludiamo col video Speriamo che vi sia piaciuto Come vi sia piaciuto Se siete commento E mi piace Fateci sapere Cosa ne pensate Di questa modalità Della nuova serie Seguiteci sui social Trovate tutti i nomi Nel canale E niente Bella Ciao Ciao